Ciacalli pronti a colpire le zone alluvionate, banda fermata dai carabinieri a Sassoferrato Per i quattro è scattato il foglio di via obbligatorio, hanno tutti i precedenti per furti Barco agrigoltaico tra Fano e Cartoceto, se riconvoca un incontro con la società e il proprietario dei terreni È una mira speculazione, ha ribadito il sindaco, continueremo a batterci per scongiurare questo mega impianto Nuova circonvallazione di muraglia, via Carloni chiusa per quattro mesi, Ricci spiega è l'intervento necessario Per completare velocemente un'opera strategica per la città, studiato un percorso alternativo Pulizia e innalzamento degli argini, l'assessore regionale Stefano Guzzi incontra il sindaco Seri Per fare il punto sul torrente Arzilla e sul piume Metallo Riccardo Bollette spegne le vetrine dei negozi Per il direttore di confesercenti di Pesero Urbino è un problema reale di sicurezza Buonasera a tutti e benvenuti a Occhio alla Notizia Una banda di sciacalli pronta a entrare in azione nelle zone colpite dall'alluvione è stata bloccata dai carabinieri a Sassoferrato in provincia di Ancona I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Fabriano con i colleghi della locale stazione Grazie a una segnalazione dei cittadini hanno fermato un'auto sospetta in via Cagli una delle più colpite dal maltempo del 15 settembre scorso A bordo della vettura c'erano tre uomini e una donna di età compresa tra i 30 e i 50 anni di origine macedone e residenti a Roma Sono tutti pluri pregiudicati per reati contro il patrimonio I militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del mezzo Successivamente per i quattro è stato disposto il foglio di via obbligatorio da Sassoferrato In più per l'autista che non aveva mai conseguito la patente è scattata una multa di 5.100 euro E oggi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ha convocato i sindaci dei territori più colpiti e dall'alluvione per approfondire i dettagli tecnici e operativi della gestione dell'emergenza a partire dal ristoro dei danni, dall'assistenza alle famiglie che non hanno più un'abitazione per arrivare al sossegno amministrativo e al potenziamento del personale negli uffici tecnici comunali La riunione, ha precisato il governatore, è servita a rafforzare la nostra collaborazione per agire in modo efficace e condiviso con un ordine di priorità Terminata la prima fase di ripristino delle opere urgenti, si procederà con la seconda fase dedicata a strade, ponti, acquedotti e fognature I nostri uffici, aggiunto l'assessore Aguzzi, hanno già provveduto a snellire i moduli online per la richiesta dei danni da parte delle aziende e dei cittadini e continueremo a semplificare tutto ciò che è di nostra competenza A Fano continua il dibattito sull'impianto agrivoltaico Il sindaco Seri ha convocato un incontro con la società che ha presentato il progetto e con il proprietario dei terreni, Roberto Taus, per ribadire la contrarietà del comune È un progetto che uccide l'ambiente Nell'incontro di ieri con la regione Marche, Seri e Fanesi hanno rimarcato la loro contrarietà all'installazione del parco fotovoltaico al confine tra il comune di Fano e quello di Cartoceto Alla riunione erano presenti anche il sindaco Enrico Rossi Il genio civile, la soprintendenza e i tecnici della provincia di Pesero Urbino Abbiamo espresso il nostro dissenso, hanno spiegato, specificando come la nostra comunità meriti rispetto Questo impianto renderebbe più impermeabile il terreno facendo aumentare la probabilità di dilavamento della superficie in una zona molto predisposta alle frane Seri e Fanesi hanno poi annunciato di voler continuare a battersi per scongiurare questo mega impianto agrivoltaico Io ho chiesto un incontro alla ditta che vuole fare questo intervento e anche alle proprietà perché vengo a sapere che erano mesi, c'era già da tempo che stavano dialogando e non esiste in un territorio Quando ci sono interventi è normale che ci sia un confronto con l'amministrazione locale È vero che il grande dell'impianto ricade sul comune di Cartocetto ma ha effetti anche sulla nostra realtà Questo avviene nella stragrande maggioranza dei casi dove prima si viene a parlare con l'amministrazione Questo non è avvenuto Ho chiesto, e questo non va bene perché queste cose non si possono prendere dalla stampa o dalle circolari che arrivano perché è in atto un procedimento partito dal Ministero Poi se altri lo sapevano al momento non lo so, ma sarebbe grave Quindi ho chiesto un incontro, li ho convocati per uno di dieci Spero che si presentino Non dubito sui locali ma ovviamente la ditta che ha sede a Palermo e ha finanziamenti stranieri e europei Quindi voglio questo incontro, un confronto forte riconfermando la nostra posizione di assoluta contrarietà Venerdì 30 settembre, ha poi ricordato Seri Abbiamo già inviato le nostre osservazioni alla Regione e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione li adotteremo per contrastare il progetto in cui, ha concluso il Sindaco, c'è un'evidente speculazione economica Questo non significa che noi siamo contrari e lo voglio rimarcare all'installazione di impianti per produrre energia alternativa Abbiamo tutti bisogno, li alimentiamo anche noi vogliamo farli anche direttamente però vanno fatti con intelligenza vanno fatti in siti idoni e non ci possono essere delle realtà che si accolano tutto il peso rispetto ad altri Ci deve essere una solidarietà anche questa anche territoriale non soltanto all'interno della stessa città ma anche all'interno di un territorio più ampio E vi ricordo che questa sera alle ore 21 presso il Bar Giunto a Cartoceto si svolgerà un'assemblea pubblica durante la quale l'amministrazione comunale illustrerà ai cittadini il progetto dell'impianto fotovoltaico che è stato depositato al Ministero della Transizione Ecologica e motiverà la posizione di netta contrarietà del Comune Ancora cronaca una ciclista di 52 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente avvenuto alle 8.30 a Fano Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un 39enne di San Costanzo che a bordo di un'autovettura con rimorchio stava percorrendo la rotatoria di via Pertini quando giunto all'intersezione con via 4 Novembre si è scontrato con la bici elettrica guidata dalla donna residente a Fano La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma si presume che l'urto sia avvenuto tra la parte laterale della bici e il rimorchio agganciato al veicolo La 52enne che per l'impatto è caduta a terra è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce A Pesaro proseguono in maniera spedita i lavori per la nuova circonvallazione di Muraglia che dovrebbero concludersi entro la prossima estate Per rispettare le date ha spiegato il sindaco Ricci c'è stata richiesta la chiusura di via Carloni per 4 mesi a partire dal 14 di ottobre Allora sentiamo i particolari nell'intervista che abbiamo realizzato al primo cittadino Finalmente l'interquartiere di Muraglia sta andando avanti in maniera spedita i lavori sono avviati da tempo però la ditta ci ha chiesto per accelerare di chiudere la strada per 4 mesi ci abbiamo riflettuto poi abbiamo dato l'ok perché questo consentirà la ditta di finire i lavori della strada entro l'estate questo ci è stato detto e quindi un'opera fondamentale per completare a sud gli interquartieri per 4 mesi chiuderemo la strada il che vuol dire che coloro che oggi sono abituati a passare dentro Muraglia per andare all'interquartieri dovranno fare strade alternative sicuramente l'autostrada sicuramente la statale e sicuramente l'asse via Flaminia e via Fratti sulla quale avremo oggettivamente dei disagi per alcuni mesi di maggiore traffico quindi chiedo pazienza ai cittadini chiedo di seguire le indicazioni tutto ciò verrà da venerdì prossimo quindi l'abbiamo detto con un largo anticipo però questo consentirà società autostrade di terminare l'interquartieri il prima possibile e oggi abbiamo confermato il fatto che la strada si chiamerà strada Enrico Berlinguer quali sono le strade quindi consigliate in alternativa? l'autostrada innanzitutto la statale e poi per chi viene dalla Bettola si dovrà proseguire via Flaminia e via Fratti stiamo rivedendo i tempi del semaforo e questo per consentire un deflusso il più rapido possibile poi ci sono anche le strade collinari però in genere non invito ad utilizzare le strade collinari per il collegamento tra Pesore e Fano perché non mi sembra giusto da molti punti di vista quindi le tre strade principali da utilizzare sono quelle lo diciamo con grandantissimo ci scusiamo per i disagi però sono disagi che ci consentiranno di finire il prima possibile il cantiere dell'interquartieri invece in Piazza del Popolo a Pesaro sono stati ricoperti gli scavi dove gli archeologi hanno lavorato per giorni dopo la scoperta di teschi scheletri e tratti di mura del Medioevo ora i lavori proseguono con la posa in opera di San Pietrini a novembre poi verrà convocata una conferenza stampa nella quale verranno illustrati i dati emersi dagli studi eseguiti sui reperti e dalle indagini realizzate anche con l'ausilio del georadar Torniamo a Fano perché questa mattina si è svolto un incontro tra la regione e il comune per confrontarsi sulla pulizia e sui lavori da eseguire lungo il torrente Arzilla e il fiume Metauro Assessore che cosa è emerso dall'incontro di questa mattina? Stamattina il sindaco di Fano mi ha chiesto di passare un attimo per fare il punto sul torrente Arzilla e sul fiume Metauro per quel che riguarda ovviamente i timori che si hanno solitamente particolarmente dopo questa brutta situazione che si è creata nella zona dell'Anconetano e dell'Alto Pesarese Abbiamo fatto un po' il punto dello stato sia della Zeda che del Metauro fiumi che da moltissimi anni non vengono ripuliti al loro interno dell'alveo ci saranno fondi a disposizione io ho chiesto al comune di Fano e c'erano anche vari tecnici presenti di farci presente dal loro punto di vista quelle che sono le zone diciamo così che ritengono maggiormente preoccupanti le conosciamo già in buona parte come regione però un ausilio del comune ovviamente non guasta per essere ancora più precisi vediamo in quale modo si riuscirà a mettere in campo parte di queste cifre anche su questo territorio noi attualmente stiamo portando avanti come regione Marche dei lavori alla foce dell'Arzilla di innalzamento dell'argine zona Tano per capirci al lato sinistro e dovrebbero partire proprio in queste ore in questi giorni lavori per innalzare di un metro l'argine dell'Arzilla e rendere non più esondabile quella parte del territorio sul fiume Metauro c'è un appalto in corso per 450 mila euro che mette in sicurezza l'argine dalla foce fino al ponte dell'autostrada l'argine diciamo sud quello che dà su Tombaccia anche se lì in queste ore la ditta non sta operando come avrebbe tra virgolette dovuto da appalto perché rivendica una rivisitazione della cifra che secondo lei i lavori sono più complessi di quello che diciamo si aspettava ha partecipato a una gara d'appalto se ha partecipato a una gara d'appalto io credo che dovremmo attenerci a quella cifra però c'è in questo momento diciamo un fermo che stiamo seguendo e c'è una contrattazione se questa contrattazione rientra nell'alveo di una diciamo accettabilità può essere che la stessa dieta viene messa in condizione spero nel più breve tempo possibile di partire con i lavori e di portare avanti questi lavori però quello che serve sia nell'Arzilla che nel Metauro in tanti fiumi marchigiani è una polizia complessiva resa difficile dalle attuali leggi resa difficile da una serie di norme che non consentono proprio di entrare nei fiumi portare via legname eccetera io sinceramente su questa legge voglio rimetterci le mani ne parlavo proprio ieri col mio dirigente credo che porterò presto in consiglio regionale una proposta che consenta con più facilità diciamo portare avanti quest'opera nel pieno rispetto chiaramente anche dell'ambiente della natura e torniamo a parlare dei rincari dell'energia elettrica perché anche Confesercenti di Pesero Urbino mette in evidenza un problema di sicurezza legato al caro Bollette che sta spingendo gli operatori a spegnere le luci delle vetrine Gli aumenti dei prezzi dell'energia non riguardano soltanto una o più categorie ma rappresentano anche un problema di sicurezza e di vivibilità dei nostri centri urbani a dichiararlo il direttore di Confesercenti di Pesero Urbino Alessandro Ligurgo che punto ai riflettori sulla scelta di molti operatori che di notte stanno spegnendo le luci delle loro vetrine a causa dei rincari esorbitanti delle bollette in pratica detto Ligurgo di fronte ad aumenti che arrivano fino al 500% è una scelta obbligata con la quale si cerca di star dentro ai costi e di non dover arrivare a chiudere l'attività in tutto questo si presenta poi un problema reale o percepito di sicurezza sappiamo tutti che le vetrine fanno parte della pubblica illuminazione in tutte le città quindi quando si spengono le vetrine e le luci magari anche della città non sono proprio eccezionali ci sono dei coni d'ombra in questi coni d'ombra normalmente i delinquenti cominciano a prosperare quindi ci sono personaggi che cominciano a bivaccare in determinati posti ma sicuramente so che se vado a spasso a piedi di sera magari in una via non proprio centralissima un problema se vedo delle persone che mi vengono incontro io me lo faccio la percezione di un potenziale comunque pericolo c'è è vero la provincia di Pesaro è normalmente molto tranquilla grandi problemi di criminalità non ce l'abbiamo però abbiamo questo sentore che se le vie cominciano a diventare buie cosa succede non lo sappiamo a livello nazionale i confesercenti si sta già muovendo per sensibilizzare le istituzioni assicurato il direttore l'associazione di categoria ha rivolto un appello anche alla regione Marche affinché metta mano in fretta a strumenti di sostegno per gli operatori accanto a quelli già richiesti per l'emergenza alluvione per molti si tratta di una corsa contro il tempo ha concluso Ligurgo il problema è comune non possiamo ragionare a compartimenti stagni imprese e famiglie vanno tutelate al più presto se l'Europa all'inizio e poi lo Stato italiano è a cascata poi la regione non mette mano a questo reale problema che sta veramente diventando un macigno per tutte le imprese che rappresenta Confesercenti che sono le micro e le piccole imprese abbiamo veramente un problema un problema reale un problema reale che comincerà ad essere un nuovo problema poi di occupazione sarà un problema di si innesca un circolo vizioso purtroppo che poi sarà dura da contrastare è stata ripescata questa mattina dal molo di Levante dell'Ido di Fanno alla panchina finita in mare a causa del maltempo delle scorse settimane come spiegato dall'assessore Barbara Brunori si è dovuto attendere una ditta specializzata per eseguire l'intervento perché era necessario l'utilizzo di una gru la panchina è stata portata in un magazzino e si dovrà valutare se è possibile ripararla visto che ha subito danni notevoli e forse irreparabili i nostri reporter di strada ci hanno segnalato anche le pessime condizioni dell'asfalto in via del Dominichino in zona Paleotta a Fanno ieri mattina ci ha scritto una telespettatrice un bambino in bicicletta ha rischiato di cadere queste buche si sono formate in soli 100 metri da 18 anni che risiedo qui e ha proseguito non ho mai visto asfaltare questo tratto di strada dal comune c'era stato riferito che avrebbero provveduto ad eseguire i lavori a gennaio-febbraio 2020 sono passati due anni e mezzo e ancora non è stato fatto nulla cambiamo argomento domenica prossima a Fanno verrà presentato il calendario del nuovo anno sociale dell'Università dei Saperi che ha organizzato più di 50 iniziative tra laboratori corsi e conferenze il servizio è stato curato da Filippo Pucci domenica 9 ottobre all'interno dell'ex chiesa Santa Maria del Gonfalone in via Rinalducci in centro a Fanno verrà presentato l'anno sociale 2022-2023 dell'Università dei Saperi Giulio Grimaldi realtà nata nel 2004 nell'ambito del progetto della regione Marche Anziani come risorsa lo scopo è quello di dare a tutti la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e competenze sviluppare attività artistiche e manuali inespresse ricco il programma che vede ben 45 corsi ai laboratori una sezione speciale e 5 ulteriori corsi di cui uno sperimentale di lingua latina e poi eventi conferenze e cicli di incontri l'appuntamento del 9 ottobre aperto al pubblico dalle ore 17 vedrà anche un momento di esecuzione di brani dal 700 alla contemporaneità curata dal pianista Riccardo Maria Ricci in realtà saremmo un'università cosiddetta della terza età anche se alla nostra associazione si può iscrivere chiunque anche quest'anno abbiamo messo in piedi un ricco programma come un corso di approccio alla lingua latina un corso che si chiama Icone del 900 e che durerà per tutto l'anno e verranno trattati personaggi femminili che nel 900 sono state considerate delle vere e proprie icone chiaramente abbiamo tanti corsi oltre a quelli tradizionali di lingue di storie di filosofia anche corsi particolarmente nuovi per esempio corso di astrofotografia che faremo in collaborazione con Giulio Fraticcioli dell'ottica da rossa di Fano praticamente ci insegnerà come fotografare le stelle e tanti altri che adesso non sto a citare perché sono moltissimi e la nostra associazione è aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno in via De Cuppis 7 per chi volesse effettuare l'iscrizione che è di circa che è di 30 euro per la tessera e poi tenete conto che ci sono una serie di corsi a pagamento come sempre ma moltissimi corsi che sono praticamente gratuiti perché il costo è di 5 euro e molti gli eventi che sono rivolti alla cittadinanza circa una dozzina costituiti da conferenze di vario tipo di vari argomenti molte di contenuto scientifico come ci è piaciuto fare ormai da almeno un paio d'anni La Proloco di Fano invece è già al lavoro per le iniziative natalizie lo scorso anno grazie all'appello lanciato dall'associazione di volontariato la città della fortuna aveva sfoggiato in piazza un abete donato da una famiglia di Monteporzio quest'anno si è deciso di ripercorrere la stessa strada e di chiedere ai cittadini che si trovassero nelle condizioni di dover abbattere un abete di contattare la Proloco per farne l'albero ufficiale del Natale 2022 Dopo la parentesi estiva è tempo di iniziare a prepararci per il Natale e lo facciamo con la ricerca dell'albero l'albero per la bellissima piazza di Fano negli ultimi anni è stato sempre donato da alcune famiglie e ci auguriamo che accada anche quest'anno siamo alla ricerca di un albero con le caratteristiche più o meno 10-12 metri di altezza che sia presente a Fano o anche nei paesi vicini ma che soprattutto sia un albero che la famiglia deve togliere per problemi di sicurezza o quant'altro non vogliamo togliere un albero vivo e sano dal nostro territorio Chiaramente stiamo ricercando un albero importante per quanto riguarda la piazza e abbiamo avuto già dei contatti soprattutto in passato dove eventualmente si sono proposte le persone per regalarcelo però chiaramente noi siamo comunque sempre alla ricerca per avere un albero molto importante e molto bello da poter mettere in piazza ed abbellire chiaramente la nostra città e le tempistiche chiaramente sono abbastanza brevi perché comunque ci dobbiamo organizzare quindi è importante che noi abbiamo queste informazioni al massimo e non oltre il 10 di novembre in maniera tale che abbiamo la possibilità di organizzarci sia per poter recuperare l'albero presso l'abitazione sia per quanto riguarda poi il trasporto che verrà fatto direttamente in piazza e chiunque fosse interessato e avesse la possibilità chiaramente di donare questo albero può contattarci in questi due numeri di telefono che sono il 389 006 9855 o il 348 47 15070 quindi fatevi avanti perché sicuramente farete un bel regalo un bel dono per la nostra città e soprattutto per il Natale per i più piccini che sicuramente accorreranno numerosi nella piazza grazie a Egofilm e 26 Entertainment saranno donati alla città due defibrillatori in memoria dell'attore fanese Luca Longarini recentemente scomparso una promessa che il regista Erri Secchiaroli aveva fatto alla proiezione della prima del commissario Moretta la serie tv della quale Longarini era stato scelto come protagonista la cerimonia di donazione dei due apparecchi acquistati con gli incassi della proiezione avverrà domenica 9 ottobre alla Darsena Borghese agli ore 17 si terrà un evento dimostrativo di salvataggio in mare con l'associazione cinofila K9 seguirà l'inaugurazione della postazione con il primo defibrillatore perché l'altro sarà posizionato al foro boario e poi un evento dimostrativo dell'apparecchio a cura di CPS con la partecipazione della polizia locale al termine sul muro della Darsena Borghese sarà proiettata la puntata pillola della serie tv del commissario Moretta l'iniziativa è stata promossa da CNA Cinema e Audiovisivo Marche e anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Sergio e Luciana Bonaventura che oggi festeggiano 54 anni di matrimonio nozze di zi Bellino per questa coppia residente a Fano auguri da parte dei familiari e dello staff di Fano TV il nostro telegiornale termina qui vi ricordo che Massimo Fughetti vi aspetta domani mattina in diretta alle 7 per Occhio ai giornali buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sovrapposti